Ciao amici di BIMED, mi chiamo Beatrice Friuli e frequento la classe quinta E dell'Istituto Comprensivo Casalini di San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto. La nostra classe ha partecipato tre volte al BIMED, in terza, in quarta e in quinta quest'anno. I libri sono intitolati Non c'è tempo e La macchina di succhi emozioni. Il libro che abbiamo scritto ancora deve essere finito di scrivere. La nostra classe, quando scrivevamo, diventava un vero e proprio laboratorio di idee, dove ognuno scriveva la propria. Era bene navigare con la fantasia e scoprire nuovi personaggi che più ci piacevano. Era una bellissima sensazione, ma è ancora una sensazione più bella trovare il proprio nome tra gli autori.